Il problema di acari, batteri e cattivi odori causa di allergie. Unico è la soluzione ideale per il clima tutto l'anno. La funzione in pompa di calore permette di sostituire o potenziare il riscaldamento tradizionale nelle stagioni invernali. Unico Twin rispetta l'estetica delle pareti esterne. Non sarà più un problema per chi non poteva installare un climatizzatore classico. In particolare nei centri storici, a causa dell'unità esterna. Ma la nostra qualità non si ferma al prodotto. Il nostro staff specializzato è sempre pronto ad offrire una consulenza gratuita, con preventivi direttamente a casa vostra, che comprendono dalla vendita all'installazione, e finanziamenti in sede con comoderate a partire da 29 euro al mese. Una rete di centri di assistenza è sempre a vostra disposizione dopo l'acquisto, per qualsiasi esigenza, e per tre anni copertura garantita da Olimpia Splendi, un marchio made in Italy. Benvenuti! Ecco la novità che aspettavate per avere direttamente in casa vostra l'acqua come la volete voi. Acqua King, l'erogatore di acqua naturale frizzante o leggermente frizzante, a temperatura ambiente, calda o fredda. Quanta acqua bevete al giorno? Spero tanta, perché l'acqua è l'elemento essenziale per il benessere dell'organismo, per rimuovere le tossine in eccesso. Per questo medici e nutrizionisti ci consigliano di berne almeno due litri al giorno. Ma a casa vostra come la preferite? Naturale, frizzante o leggermente frizzante? A temperatura ambiente o fredda? Siete anche voi schiavi delle confezioni d'acqua da portare su e giù per le scale e da stivare in casa? Con Acqua King direte stop a tutto questo, stop a confezioni pesanti, acqua da mettere in fresco nel frigo, bottiglie di acqua naturale per voi e magari frizzante per vostro marito. Acqua King è l'apparecchio made in Italy per avere direttamente a casa vostra l'acqua come la volete voi, naturale frizzante o leggermente frizzante, a temperatura ambiente, calda o fredda. Come vedete Acqua King è un apparecchio che farà bella figura sul top della vostra cucina e che accontenta i gusti di tutta la famiglia. Con Acqua King non dovrete far altro che inserire il bicchiere sotto l'erogatore, selezionare il tipo di acqua che volete e il gioco è fatto. Pensate a quante volte avete detto a vostro marito accidenti, abbiamo finito l'acqua, vai a prendere la confezione a supermercato dai e non voglio immaginare la sua faccia se per caso era già seduto sul divano o a guardare la tv. Allora pensate soprattutto alla comodità di avere Acqua King in cucina. Chiamate subito GS Italia, prenotate la visita gratuita e senza impegno di un nostro incaricato che vi illustrerà tutte le possibilità che Acqua King vi offre. Con Acqua King risolverete il problema della riserva d'acqua in casa che vi occupa spazio nel ripostiglio sul balcone. E poi Acqua King vi fa risparmiare. Pensate, una famiglia italiana per acquistare acqua da bere spende in media fino a 500 euro l'anno. Ma che motivo c'è di spendere altri soldi per una cosa che già paghiamo nelle spese di casa e che oggi possiamo scegliere come piaccia a noi? E con Acqua King risparmierete sempre, anche quando andrete in vacanza, alla Casa al Mar o in montagna, perché potete portare Acqua King con voi e utilizzarlo dove volete, collegandolo semplicemente alla rete elettrica. Allora, non aspettate! Telefonate GS Italia al numero in sovrimpressione. Un incaricato verrà a casa vostra gratuitamente e senza impegno d'acquisto per mostrarvi tutto quello che volete sapere su Acqua King. All'installazione ci pensiamo noi, gratuitamente. Scoprirete la convenienza di Acqua King? Provate a fare i conti di quanto risparmierete in un anno e moltiplicatelo per gli anni che volete. Acqua King è un apparecchio made in Italy che vi durerà tantissimo tempo e voi, oltre a bere l'acqua come più vi piace, risparmierete e questo so che vi piace decisamente di più. E inoltre, alle prime 10 telefonate, una vacanza omaggio di una settimana per 4 persone. State esitando perché pensate di non avere abbastanza spazio sul top della vostra cucina? Tranquilli, perché Acqua King è disponibile anche con sistema sotto lavello o addirittura sotto zoccolo per non avere nessun tipo di ingombro. E inoltre, GS Italia è in grado di portare a casa vostra anche gli indispensabili addolcitori d'acqua. La soluzione contro i depositi di calcare che ostruiscono le tubature di bagno e cucina, incrostano le caldaie e fanno aumentare la vostra bolletta. La soluzione per eliminare definitivamente il calcare dall'acqua di casa e migliorare l'efficienza di lavatrici, caldaie e lavastoviglie e ridurre anche il consumo di detersivi e ammorbidenti. Ma nella nostra vasta gamma di prodotti pensati per migliorare realmente la qualità della vita, trovate anche gli ionizzatori d'acqua. Per avere un'acqua pura, antiossidante, microstrutturata, alcalina, ricca di ossigeno. Un'acqua che non troverete certo al supermercato e invece importante perché ha effetti benefici sulla nostra salute. Gli ionizzatori, ottimi anche per offrire un'acqua pura e cristallina ai vostri amici animali, molto sensibili al cloro. Allora, chiamate subito GS Italia. Non aspettate. GS Italia, oltre 8000 famiglie soddisfatte grazie ad un servizio di assistenza qualificato e tempestivo. Fate anche voi come questa signora. Ultimamente non cammino più bene e portare sulle confezioni dell'acqua è diventato difficile. Ma con Acqua King ho risolto molti dei miei problemi. Ho telefonato ed è venuto a casa mia un incaricato, gentilissimo, che ha risposto a tutte le mie domande e mi ha fatto vedere come funziona. Ho acquistato Acqua King e devo dire che ho fatto bene. Ho tutta l'acqua che voglio, quando voglio e senza fare più nessuna fatica. E non spendo più tutti quei soldi per comprare l'acqua in bottiglia. Ma ora voglio mostrarvi tutte le possibilità che vi offre Acqua King, l'erogatore di acqua made in Italy. Innanzitutto potete scegliere facilmente il tipo d'acqua desiderata. Grazie ad uno di questi quattro pulsanti che vi permettono di avere acqua naturale, frizzante o leggermente frizzante, a temperatura ambiente, fredda o addirittura già calda, per preparare direttamente le vostre tisane, tè e infusi. Con un semplice tocco scegliete e bevete. Anche i vostri bambini riusciranno a fare tutto da sole. Inoltre potrete anche programmare la temperatura e il livello di gasatura dell'acqua erogata da Acqua King, aumentandoli o diminuendoli a vostro piacimento. Acqua King con un semplice tocco accontenta tutti. Non pensate sia al momento di dire basta alle confezioni pesanti da portare su e giù per le scale o da stivare in casa. Non pensate sia al momento di dire sì al piacere di bere l'acqua come desiderate. Allora non aspettate! Telefonate GS Italia al numero in sovrimpressione. Un incaricato verrà a casa vostra gratuitamente e senza impegno d'acquisto per mostrarvi tutto quello che volete sapere su Acqua King. All'installazione ci pensiamo noi, gratuitamente. Scoprirete la convenienza di Acqua King. Provate a fare i conti di quanto risparmiate in un anno e moltiplicatelo per gli anni che volete. Acqua King è un apparecchio made in Italy che vi durerà tantissimo tempo e voi oltre a bere l'acqua come più vi piace risparmierete e questo certamente vi piace ancora di più. E inoltre alle prime dieci telefonate una vacanza omaggio di una settimana per quattro persone. Chiamate adesso, non aspettate, fate come loro! Con Acqua King è come avere una sorgente d'acqua in casa, perché è sempre lì a nostra disposizione, quando vogliamo. Lo uso anche per cucinare, lavare frutta e verdura, perché Acqua King elimina il cloro, il suo odore e il suo fastidioso sapore. Con Acqua King io e mio marito abbiamo scelto qualità e risparmio. Sono certo che non torneremo più alle vecchie bottiglie. Sentito? Acqua King vi regala una comodità che non avete mai provato prima. E in più Acqua King aiuta l'ambiente. Niente più bottiglie di plastica da smaltire che inquinano e riempiono le discariche. Allora non aspettate! Telefonate GS Italia al numero in sovrimpressione. GS Italia è l'azienda leader nel settore della depurazione delle acque, presente sul territorio nazionale presso i maggiori centri commerciali. Siniscalchi a Salerno, Le Bolle a Deboli, Pegaso a Pagani, Maximol a Ponte Cagnano e tanti altri. Telefonate con fiducia! Un incaricato verrà a casa vostra gratuitamente e senza impegno d'acquisto per mostrarvi tutto quello che volete sapere su Acqua King. All'installazione ci pensiamo noi gratuitamente. Chiamate adesso Acqua King, l'acqua a casa vostra come l'avete sempre desiderata. Benvenuti! Ecco la novità che aspettavate per avere direttamente in casa vostra l'acqua come la volete voi. Acqua King, l'erogatore di acqua naturale frizzante o leggermente frizzante a temperatura ambiente, calda o fredda. Quanta acqua bevete al giorno? Spero tanta perché l'acqua è l'elemento essenziale per il benessere dell'organismo, per rimuovere le tossine in eccesso. Per questo medici e nutrizionisti ci consigliano di berne almeno 2 litri al giorno. Ma a casa vostra come la preferite? Naturale, frizzante o leggermente frizzante? A temperatura ambiente o fredda? Siete anche voi schiavi delle confezioni d'acqua da portare su e giù per le scale e da stivare in casa? Con Acqua King direte stop a tutto questo, stop a confezioni pesanti, acqua da mettere in fresco nel frigo, bottiglie di acqua naturale per voi e magari frizzante per vostro marito. Acqua King è l'apparecchio made in Italy per avere direttamente a casa vostra l'acqua come la volete voi, naturale, frizzante o leggermente frizzante, a temperatura ambiente, calda o fredda. Come vedete Acqua King è un apparecchio che farà bella figura sul top della vostra cucina e che accontenta i gusti di tutta la famiglia. Con Acqua King non dovrete far altro che inserire il bicchiere sotto l'erogatore, selezionare il tipo di acqua che volete e il gioco è fatto. Pensate a quante volte avete detto a vostro marito accidenti abbiamo finito l'acqua vai a prendere la confezione al supermercato dai e non voglio immaginare la sua faccia se per caso era già seduto sul divano o a guardare la tv. Allora pensate soprattutto alla comodità di avere Acqua King in cucina. Chiamate subito GS Italia, prenotate la visita gratuita e senza impegno di un nostro incaricato che vi illustrerà tutte le possibilità che Acqua King vi offre. Con Acqua King risolverete il problema della riserva d'acqua in casa che vi occupa spazio nel ripostiglio sul balcone. E poi Acqua King vi fa risparmiare. Pensate una famiglia italiana per acquistare acqua da bere spende in media fino a 500 euro l'anno. Ma che motivo c'è di spendere altri sordi per una cosa che già paghiamo nelle spese di casa e che oggi possiamo scegliere come piaccia a noi? E con Acqua King risparmierete sempre anche quando andrete in vacanza, alla casa al mare o in montagna perché potete portare Acqua King con voi e utilizzarlo dove volete collegandolo semplicemente alla rete elettrica. Allora non aspettate, telefonate GS Italia al numero in sovrimpressione. Un incaricato verrà a casa vostra gratuitamente e senza impegno d'acquisto per mostrarvi tutto quello che volete sapere su Acqua King. All'installazione ci pensiamo noi, gratuitamente. Scoprirete la convenienza di Acqua King? Provate a fare i conti di quanto risparmierete in un anno e moltiplicatelo per gli anni che volete. Acqua King è un apparecchio made in Italy che vi durerà tantissimo tempo e voi, oltre a bere l'acqua come più vi piace, risparmierete. E questo so che vi piace decisamente di più. E inoltre, alle prime 10 telefonate, una vacanza omaggio di una settimana per 4 persone. State esitando perché pensate di non avere abbastanza spazio sul top della vostra cucina? Tranquilli, perché Acqua King è disponibile anche con sistema sotto lavello o addirittura sotto zoccolo per non avere nessun tipo di ingombro. E inoltre, GS Italia è in grado di portare a casa vostra anche gli indispensabili addolcitori d'acqua. La soluzione contro i depositi di calcare che ostruiscono le tubature di bagno e cucina, incrostano le caldaie e fanno aumentare la vostra bolletta. La soluzione per eliminare definitivamente il calcare dall'acqua di casa è migliorare l'efficienza di lavatrici, caldaie, lavastoviglie e ridurre anche il consumo di detersivi e ammorbidenti. Ma nella nostra vasta gamma di prodotti pensati per migliorare realmente la qualità della vita, trovate anche gli ionizzatori d'acqua per avere un'acqua pura, antiossidante, microstrutturata, alcalina, ricca di ossigeno. Un'acqua che non troverete certo al supermercato. E invece è importante perché ha effetti benefici sulla nostra salute. Gli ionizzatori, ottimi anche per offrire un'acqua pura e cristallina ai vostri amici animali, molto sensibili al cloro. Allora, chiamate subito GS Italia. Non aspettate. GS Italia, oltre 8000 famiglie soddisfatte grazie ad un servizio di assistenza qualificato e tempestivo. Fate anche voi come questa signora. Ultimamente non cammino più bene e portare sulle confezioni dell'acqua è diventato difficile. Ma con Acqua King ho risolto molti dei miei problemi. Ho telefonato ed è venuto a casa mia un incaricato, gentilissimo, che ha risposto a tutte le mie domande e mi ha fatto vedere come funziona. Ho acquistato Acqua King e devo dire che ho fatto bene. Ho tutta l'acqua che voglio, quando voglio e senza fare più nessuna fatica. E non spendo più tutti quei soldi per comprare l'acqua in bottiglia. Ma ora voglio mostrarvi tutte le possibilità che vi offre Acqua King, l'erogatore di acqua made in Italy. Innanzitutto potete scegliere facilmente il tipo d'acqua desiderata. Grazie ad uno di questi quattro pulsanti che vi permettono di avere acqua naturale, frizzante o leggermente frizzante, a temperatura ambiente, fredda o addirittura già calda, per preparare direttamente le vostre tisane e tè infusi. Con un semplice tocco scegliete e bevete. Anche i vostri bambini riusciranno a fare tutto da sole. Inoltre potrete anche programmare la temperatura e il livello di gasatura dell'acqua erogata da Acqua King, aumentandoli o diminuendoli a vostro piacimento. Acqua King con un semplice tocco accontenta tutti. Non pensate sia al momento di dire basta alle confezioni pesanti da portare su e giù per le scale o da stivare in casa. Non pensate sia al momento di dire sì al piacere di bere l'acqua come desiderate. Allora non aspettate! Telefonate GS Italia al numero in sovrimpressione. Un incaricato verrà a casa vostra gratuitamente senza impegno d'acquisto per mostrarvi tutto quello che volete sapere su Acqua King. All'installazione ci pensiamo noi, gratuitamente. Scoprirete la convenienza di Acqua King. Provate a fare i conti di quanto risparmiate in un anno e moltiplicatelo per gli anni che volete. Acqua King è un apparecchio made in Italy che vi durerà tantissimo tempo e voi, oltre a bere l'acqua come più vi piace, risparmierete. E questo certamente vi piace ancora di più. E inoltre alle prime dieci telefonate una vacanza omaggio di una settimana per quattro persone. Chi amate adesso non aspettate, fate come loro! Con Acqua King è come avere una sorgente d'acqua in casa perché è sempre lì a nostra disposizione, quando vogliamo. Lo uso anche per cucinare, lavare frutta e verdura perché Acqua King elimina il cloro, il suo odore e il suo fastidioso sapore. Con Acqua King io e mio marito abbiamo scelto qualità e risparmio. Sono certo che non torneremo più alle vecchie bottiglie. Sentito? Acqua King vi regala una comodità che non avete mai provato prima. E in più Acqua King aiuta l'ambiente. Niente più bottiglie di plastica da smaltire che inquinano e riempiono le discariche. Allora non aspettate! Telefonate GS Italia al numero in sovrimpressione. GS Italia è l'azienda leader nel settore della depurazione delle acque, presente sul territorio nazionale presso i maggiori centri commerciali. Siniscalchi a Salerno, Le Bolle ad Eboli, Pegaso a Pagani, Maximol a Ponte Cagnano e tanti altri. Telefonate con fiducia! Un incaricato verrà a casa vostra gratuitamente e senza impegno d'acquisto per mostrarvi tutto quello che volete sapere su Acqua King. All'installazione ci pensiamo noi gratuitamente. Chiamate adesso Acqua King, l'acqua a casa vostra come l'avete sempre desiderata. Benvenuti! Ecco la novità che aspettavate per avere direttamente in casa vostra l'acqua come la volete voi. Acqua King! Ben trovati con Magic Sun, l'azienda leader che da anni si occupa della vostra mobilità. Rinunciate spesso ad uscire di casa perché avete qualche difficoltà nei movimenti o semplicemente vi stancate troppo. Se avete limitazioni più o meno gravi di mobilità o se semplicemente desiderate fare un bel regalo ad una persona cara, beh, Magic Sun Mobility è quello che fa per voi. Da oggi con i Mobility Scooter Magic Sun potete ritrovare il piacere di uscire e vivere pienamente la vostra giornata, ritrovando gli amici e gli affetti più cari in completa autonomia. Magic Sun ha progettato diversi modelli di Mobility Scooter, tra i quali Gaio, il più compatto e versatile, Astro, ideale per lunghe percorrenze, Boston, lo scooter estralarge. Non dimentichiamoci inoltre delle Power Chair, le poltroncine elettriche della gamma Magic Sun Mobility, a quattro o addirittura sei ruote per venire incontro alle richieste più specifiche. Ho ritrovato il piacere di portare i bimbi al parco. Con giornate di questo tipo sarebbe un peccato rimanere chiusi in casa. E tra l'altro ho conquistato fiducia anche in famiglia. Tutti mi dicono che sono diventato un ottimo babysitter. D'altra parte vedere i bambini che giocano, scherzano e si divertono qui con me al parco è veramente una cosa bella. Con l'acquisto di questo scooter ho avuto in omaggio anche questo televisore che mi permette di vedere quando sono fuori casa le mie partite preferite. Chiamate ora il numero in sovrimpressione per prenotare una visita gratuita e senza impegno di un operatore direttamente a casa vostra. Potrete toccare con mano la qualità Magixan, ricevere tutte le informazioni che desiderate sui vari modelli e addirittura provare lo scooter Gaio gratuitamente e senza impegno. E in questo periodo con l'acquisto di qualsiasi scooter o power chair Magixan potrete ricevere compreso nel prezzo un pratico televisore portatile oppure un moderno telefono cellulare oppure un tecnologico tablet. Gli scooter elettrici Magixan Mobility sono mezzi estremamente robusti e affidabili coperti da garanzia europea e rappresentano al meglio la filosofia della Magixan un'azienda che ogni giorno da molti anni ha messo al primo posto la soddisfazione dei clienti proponendo soluzioni innovative alla portata di tutti. Pensate potrete accedere alla gamma Magixan Mobility a partire da 398 euro con la possibilità di avere pagamenti personalizzati. Ormai da tempo avevo rinunciato ad andare da sola al supermercato. Un amico mi ha consigliato lo scooter della Magixan Mobility e finalmente ho ritrovato la mia autonomia e la gioia di uscire quando voglio. Alla fine non ho saputo resistere. Mi mette di buon umore. Ormai uscire con lo scooter è diventata una piacevole abitudine. Per il mio settantesimo compleanno mi hanno preso Gaio, lo scooter della Magixan Mobility, un regalo che mi ha cambiato la vita. Eccolo, lo scooter Gaio, il più piccolo e divertente della gamma Magixan, semplice da usare ed è il mezzo ideale per muoversi in totale comodità sia all'interno che all'esterno della vostra abitazione. Lo scooter Gaio è dotato di ben quattro ruote che non si forano mai per garantire la massima stabilità. Compatto, leggero e facile da manovrare in ogni situazione. E che dire poi del suo ricco equipaggiamento. Ha braccioli e manuvrio regolabili, sedile girevole e anche un pratico cestino portaoggetti proprio ideale per fare le piccole commissioni di ogni giorno. Gaio, grazie alle sue potenti batterie, ha una autonomia elevata che vi permetterà di muovervi con serenità, in totale autonomia e in dipendenza. Grazie alle sue dimensioni compatte, lo scooter Gaio è davvero maneggevole. Inoltre può essere smontato con semplici gesti, caricato nel bagagliaio di qualsiasi automobile per essere trasportato ovunque con la massima facilità. Per ricaricarlo basta inserire la spina in una qualunque presa di corrente e il vostro Gaio sarà pronto a portarvi in giro per ore e ore. E ricordate, ben quattro ruote antifuratura che garantiscono stabilità e sicurezza. Altra cosa molto pratica, le batterie si possono facilmente rimuovere dal corpo dello scooter permettendo la ricarica in qualunque angolo della propria abitazione. E in questo periodo con l'acquisto di qualsiasi scooter o Powerchair Magixan potrete ricevere, compreso nel prezzo, un pratico televisore portatile oppure un moderno telefono cellulare oppure un tecnologico tablet. E allora, chiamate ora, provate Gaio direttamente a casa vostra senza impegno. Non rinunciate più ad uscire. Comodo e smontabile, due parole per raccontare il mio scooter elettrico Gaio. Ho scoperto Magixan proprio nel momento giusto della mia vita. Magixan ha davvero migliorato la qualità della mia vita. Avete sentito? Grazie agli scooter elettrici Magixan potrete di nuovo ritrovare la vostra autonomia. Potrete uscire, fare la spesa, divertirvi, andare a prendere i nipotini a scuola. Insomma, muovervi senza tante preoccupazioni. Da quando sono andato in pensione il mio passatempo preferito era quello di venire qui e giocare a briscola con gli amici. Grazie al mio scooter Astro posso muovermi tranquillo e tornare a giocare tutte le partite che voglio. Prima di comprare lo scooter Magixan mi affaticavo parecchio tra gli scaffali del supermercato. Mi ci voleva proprio lo scooter Astro e non lo devo neanche consigliare alle mie amiche. A loro basta guardare come mi trovo bene. E ora parliamo del mio scooter preferito, il modello Astro, definito lo scooter che ti porta lontano proprio per via delle sue potenti batterie. Astro è l'ideale per le uscite fuori porta, grazie anche alle sue dimensioni e alla sua straordinaria dotazione. È equipaggiato con un comodissimo poggiatesta, braccioli e sedile regolabili, manubrio a delta, luci, indicatori di direzione e anche un pratico cestino porta oggetti. Inoltre, grazie alle sue potenti batterie, ha un'autonomia molto elevata che vi permetterà di muovervi senza preoccupazioni e senza fatica. Grazie al pratico indicatore potrete sempre tenere sotto controllo il livello di carica per godervi il tragitto con tutta tranquillità. Inoltre, caratteristica comune a tutti i mobility scooter Magic Sun, i comandi sono chiari e semplici. Non serve avere esperienza nella guida di uno scooter o di un'automobile. Questi mezzi sono veramente accessibili per un gran numero di persone. E allora non rinunciate alle serate con gli amici, ad andare al parco o a fare la spesa. Non rinunciate più alla vostra autonomia. Chiamate ora il numero in sovrimpressione per avere tutte le informazioni. Questo è il momento giusto per acquistare uno scooter Magic Sun. Potrete usufruire infatti delle agevolazioni fiscali e avrete modo di toccare con mano la qualità Magic Sun direttamente a casa vostra senza impegno. Vi ricordo inoltre il ritiro dell'usato e la possibilità di avere pagamenti rateali. E in questo periodo con l'acquisto di qualsiasi scooter o power chair Magic Sun potrete ricevere, compreso nel prezzo, un pratico televisore portatile oppure un moderno telefono cellulare oppure un tecnologico tablet. Magic Sun Mobility vi propone una vasta gamma di modelli pensati per ogni esigenza. Costruiti con materiali di elevata qualità, sono ai vertici della categoria. E ricordate ben quattro ruote che garantiscono stabilità e sicurezza. Con la loro grande solidità costruttiva, gli scooter elettrici Magic Sun vi portano ovunque. Robusti, affidabili e semplici da usare. Avevo già un mobility scooter col quale mi trovavo bene da diversi anni, ma a un certo punto ho trovato l'esigenza di cambiarlo per avere un modello più potente e accessoriato. Mi sono rivolto a Magic Sun che mi ha ritirato e valutato il vecchio scooter facendomi pure uno sconto sul nuovo. Alla fine ho scelto il modello Astro che è più grande e potente del vecchio scooter. Anche il sedile è decisamente più comodo e molto più semplice da gestire. Inoltre ha un'autonomia maggiore di quello che avevo e questo mi fa stare decisamente più tranquillo. Pensate, potrete accedere alla gamma Magic Sun mobility a partire da soli 398 euro con il modello TU che vi permetterà di svicolare ovunque senza fatica. TU due ruote e un motore elettrico per una nuova concezione di mobilità. Quando ho detto agli amici che volevo acquistare uno scooter elettrico Magic Sun non ci credevano e mi prendevano in giro. Quando l'ho acquistato e portato al parco ci sono ricreduti, hanno voluto provarlo e hanno telefonato alla Magic Sun per poterlo acquistare. Sono in una certa stazza e soffro facilmente di mal di schiena, cammino un po' precariamente ed è per questo che cercavo uno scooter che mi aiutasse un po' a fare le salite, le discese, camminare nelle strade un po' brutte che ci sono intorno a casa mia e mi sono rivolto a Magic Sun. Ho scelto lo scooter Boston che inizialmente mi sembrava uno scooter a benzina, invece no, è uno scooter totalmente elettrico, è su quattro ruote, ha il clacson, le frecce, gli specchietti retrovisori e si guida senza patente, non si paga il bollo. Molto spesso la gente per strada mi ferma chiedendo informazioni, lo vuol provare, io a volte lo faccio anche provare, però consiglio sempre di telefonare alla Magic Sun per avere i maggiori dettagli. Adesso parliamo di Boston. Grazie alla sua costruzione ultra solida, è lo scooter pensato per le taglie forti. È un vero e proprio scooter extra large. Beh, le piccole strade in salita non sono un estacolo per il suo potente motore e il suo robusto telaio. Tra gli accessori più specifici di questo modello vi ricordo la Captain Chair, una comoda poltrona regolabile e reclinabile, il paraurti cromato anteriore e posteriore, un sistema di sospensioni che consente il massimo del comfort in tutte le situazioni. Grazie a Magic Sun ho finalmente uno scooter che riesce a trasportare il mio peso senza problema. Per fortuna ho scoperto Boston. Adesso posso muovermi in libertà, posso andare dove voglio e non mi ferma più nessuno. E allora non lasciatevi sfuggire questa eccezionale opportunità. Chiamate ora il numero in sovrimpressione per prenotare una visita gratuita e senza impegno di un operatore Magic Sun. Potrete ricevere tutte le informazioni che desiderate e usufruire di importanti agevolazioni. E in questo periodo, con l'acquisto di uno scooter o di una Powerchair Magic Sun, potrete ricevere, compreso nel prezzo, un pratico televisore portatile, oppure un moderno telefono cellulare, oppure un tecnologico tablet. Magic Sun inoltre ritira e valuta il vostro usato. Che cosa vuol dire? Che se avete un vecchio scooter ormai in disuso, chiamate perché ve lo valuteranno permettendovi di acquistare un mobility scooter di ultima generazione a condizioni vantaggiosissime. Se avete un vecchio scooter da cambiare, fate come me, chiamate Magic Sun, ve lo supervaluteranno. Me l'hanno consegnato direttamente a casa e in poco tempo. Ora vado dovunque e senza tante preoccupazioni. Mi spiace solo di non averci pensato prima. La Magic Sun ha pensato di includere nella gamma mobility anche le Powerchair, che si muovono grazie ad un semplice joystick. Infatti, attenzione, le Powerchair sono davvero particolari, possono essere addirittura a quattro ruote o a sei ruote, e sono state progettate per cercare di venire incontro a tutte le esigenze di mobilità. La Powerchair Ford, per esempio, è facilissima da manovrare anche negli spazi più angusti. Infatti, è ideale proprio per muoversi negli ambienti domestici. Con le sue dimensioni super compatte, passa attraverso ogni porta. E poi c'è la Powerchair Six, che è l'espressione massima della solidità, ideale per la casa ma anche per l'esterno, perché è dotata di ben sei ruote che vi consentiranno di compiere ogni tipo di manovra. Addirittura, questa Powerchair può ruotare a 360 gradi su se stessa. Purtroppo, mia madre non riesce più a camminare come una volta. Ho deciso di acquistare la sedia, e devo dire che da allora la vita della mamma è davvero cambiata, e anche la nostra. Da anni ho imparato a convivere con i miei problemi e gli arti inferiori. Purtroppo non riesco più a camminare come prima. Un giorno ho visto in tv la Powerchair, ed ho pensato che potesse essere la soluzione giusta anche per me. Le Powerchair Magic Sun Mobility sono state progettate per rendere davvero la vita più facile a chiunque abbia problemi più o meno gravi di deambulazione. Il joystick, che può essere montato facilmente sia a destra che a sinistra, permette un perfetto controllo. Ma chi ne dite? È una bella soluzione, vero? È l'acquisto migliore che abbia fatto negli ultimi anni. Questa Powerchair è davvero incredibile. Gira su se stessa a 360 gradi e mi porta ovunque. Guardate le ruote. Da quando l'ho comprata, ogni occasione è buona per uscire con gli amici e gironzolare per negozi. Mi piace perché è comoda, tecnologica, facile da utilizzare e poi è bella. Ora mi muovo in modo autonomo. È tutto grazie a questo semplice joystick. La poltroncina è stata la soluzione ideale per tutti noi. Spostarsi è diventato decisamente piacevole. Siamo proprio soddisfatti. Chiamate ora il numero in sovrimpressione per avere tutte le informazioni. Questo è il momento giusto per acquistare uno scooter Magixan. Potrete usufruire infatti delle agevolazioni fiscali e avrete modo di toccare con mano la qualità Magixan direttamente a casa vostra senza impegno. Vi ricordo inoltre il ritiro dell'usato e la possibilità di avere pagamenti rateali. E in questo periodo con l'acquisto di qualsiasi scooter o power chair Magixan potrete ricevere, compreso nel prezzo, un pratico televisore portatile oppure un moderno telefono cellulare oppure un tecnologico tablet. Non dimenticate inoltre il ritiro dell'usato, le agevolazioni fiscali e la possibilità di pagamenti personalizzati. Ricordate, c'è sempre uno scooter Magixan adatto alle vostre esigenze. Pensate, potrete accedere alla gamma Magixan Mobility a partire da 398 euro con la possibilità di avere pagamenti personalizzati. Io ho sempre amato camminare molto, però gli anni passano e non siamo più ragazzini. Poi mia moglie ha visto una pubblicità in tv e mi dice Comprati uno scooterastro! Subito ho pensato, e cosa me ne faccio di uno scooter? È sempre così. All'inizio è titubante, ma poi mi dà sempre ragione. Beh, proprio sempre no, ma questa volta sicuramente sì. Ho avuto già un Mobility Scooter da molti anni e devo dire che di chilometri ne ho fatti parecchi. Ho visto la pubblicità di Magixan e ho chiesto informazioni. Mi hanno proposto vari modelli, ritirando e valutando il mio vecchio scooter sull'acquisto del nuovo. Tra i modelli preferiti dei clienti Magixan c'è sicuramente Astro e non poteva essere altrimenti grazie al suo completo equipaggiamento. Luci, frecce, manubbio a delta, cerchi in lega. Astro è lo scooter che vi porta lontano ed è stato pensato apposta per farvi fare chilometri e chilometri in piena autonomia. Addirittura lo scooter Astro si ricarica autonomamente nelle percorrenze in discesa. Con Astro infatti potrete uscire tutti i giorni per fare la spesa, per andare a prendere nipotini a scuola, divertirvi, anche per lunghe percorrenze, perché parliamo infatti di svariati chilometri di autonomia. Se dopo aver visto quest'ampia gamma di scooter vi siete incuriositi, allora telefonate perché potrete prenotare una visita senza impegno a casa vostra. Verrà da voi l'incaricato di zona della Magixan che non soltanto vi porterà il catalogo e vi spiegherà tutte le caratteristiche di questi mobility scooter, ma vi farà persino provare il modello Gaio. Tutto questo per dimostrarvi la semplicità di utilizzo e per farvi scegliere il mobility scooter più adatto proprio alle vostre esigenze. Una volta che avrete scelto il modello che desiderate, la consegna sarà fatta direttamente a casa vostra e in poco tempo. E in questo periodo con l'acquisto di qualsiasi scooter o Powerchair Magixan potrete ricevere, compreso nel prezzo, un pratico televisore portatile, oppure un moderno telefono cellulare, oppure un tecnologico tablet. E per il pagamento? Niente di più semplice. Potrete accedere alla gamma Magixan Mobility a partire da 398 euro con la possibilità di avere pagamenti personalizzati. Adesso mi sento molto più libero di andare dove mi pare, tengo il passo con gli altri e in più mi caricano di roba. Un giorno mio figlio mi ha fatto provare lo scooter elettrico della Magixan. Da quel momento la mia vita è cambiata e naturalmente è il meglio. Eccolo, lo scooter Gaio, il più piccolo e divertente della gamma Magixan, semplice da usare ed è il mezzo ideale per muoversi in totale comodità sia all'interno che all'esterno della vostra abitazione. Lo scooter Gaio è dotato di ben quattro ruote che non si forano mai per garantire la massima stabilità. Compatto, leggero e facile da manovrare in ogni situazione. E che dire poi del suo ricco equipaggiamento. Ha braccioli e manuvrio regolabili, sedile girevole e anche un pratico cestino portaoggetti proprio ideale per fare le piccole commissioni di ogni giorno. Gaio, grazie alle sue potenti batterie, ha una autonomia elevata che vi permetterà di muovervi con serenità in totale autonomia e indipendenza. Grazie alle sue dimensioni compatte lo scooter Gaio è davvero maneggevole. Inoltre può essere smontato con semplici gesti, caricato nel bagagliaio di qualsiasi automobile per essere trasportato ovunque con la massima facilità. Per ricaricarlo basta inserire la spina in una qualunque presa di corrente e il vostro Gaio sarà pronto a portarvi in giro per ore e ore. E ricordate, ben quattro ruote antifuratura che garantiscono stabilità e sicurezza. Altra cosa molto pratica, le batterie si possono facilmente rimuovere dal corpo dello scooter, permettendo la ricarica in qualunque angolo della propria abitazione. E allora, chiamate ora, provate Gaio direttamente a casa vostra senza impegno. Non rinunciate più ad uscire. Sì, un'estate in vacanza con Dotolo Mobili, perché d'estate ci sono un mare di offerte. Goditi le vacanze. Prima di acquistare, quest'estate passa da Dotolo Mobili. Prima arrivi, meglio scegli. Approfittane subito. Compri oggi e inizi a pagare a gennaio 2018 Interessi Zero. È un'esclusiva Dotolo Mobili. Dotolo Mobili vi aspetta nei suoi spazi stupendamente arredati di oltre 30.000 metri quadri di arredamenti a Passo di Mirabella, Foggia, Bellizzi di Salerno, Benevento, Teverola, Caserta. Aperti la domenica, promozione Interessi Zero, valida in tutti i punti vendita. Benvenuti. Oggi il nostro è un grande appuntamento, perché voglio presentarvi le novità di Amico Relax, un'azienda tutta italiana che spende proprio tutte le sue energie per produrre delle poltrone eccellenti. Poltrone davvero speciali, un vero made in Italy. Ma come vi dicevo, quest'oggi è un grande appuntamento, perché queste nuove poltrone sono un prodotto di straordinaria qualità e funzionalità. Sono realizzate con uno strato di ben 30 mm di Gaia, che è un prodotto della gamma Water Lily, tra i più innovativi che si trovano proprio sul mercato. Questa soluzione che cosa fa? Cognuga comfort e funzionalità, offrendovi una seduta che si automodella proprio attraverso la trazione. E' un'azienda termica di corpo, quindi una maggiore capacità di accogliervi e di offrirvi il relax che chiedete ad una poltrona come questa. Più traspirabilità per allontanare l'umidità del corpo, quindi maggiore comfort in ogni stagione dell'anno. Telefonate al numero che vedete e prenotate la visita gratuita di un consulente esperto, che senza nessun impegno di acquisto verrà a casa vostra, vi consiglierà e vi costruirà proprio una poltrona, solida, certificata e garantita, in base proprio alle vostre esigenze. Perché questo è il nostro impegno, farvi stare bene a casa vostra. Quindi non aspettate, chiamate adesso e telefonate subito al numero che vedete, perché le poltroni Amico Relax sono vostre amiche anche nel prezzo. Le potete pagare anche con piccole rate mensili, oppure con la formula 24 rate a tasso zero. E ricordate che una poltrona Amico Relax non è una poltrona qualsiasi, è un prodotto con la certificazione di dispositivo medico-sanitario con IVA al 4% per gli aventi diritto, garantita 3 anni con assistenza in tutta Italia. Ma attenzione, Amico Relax vuole che tutti voi possiate avere in casa una meraviglia come questa poltrona. Sentite bene. La poltrona che scegliete può essere vostra con piccole rate mensili, oppure Amico Relax raddoppia. Con l'acquisto di una poltrona riceverete una seconda poltrona manuale in omaggio, oppure una rete elettrica motorizzata. Un aiuto per coloro che soffrono di riflusso gastrico, di gambe gonfie, vene varicose e che russano durante il sonno. Ma attenzione, se chiamate adesso e solo per oggi, con l'acquisto di una poltrona Amico Relax potete ricevere un divano in omaggio. Chiamate adesso perché Amico Relax pensa a tutto e a tutti. Approfittate di queste promozioni e chiamate subito per richiedere la visita di un nostro incaricato. Ma pensate che una poltrona Amico Relax sia solamente quello che avete visto fino a questo momento? Avete difficoltà ad alzarvi, a risedervi dal vostro divano? Beh, la poltrona Amico Relax è dotata del sistema Lift Alza Persona, studiato nella massima sicurezza, che vi permette di alzarvi senza effettuare sforzi e di risedervi in completa autonomia. Volete portare la vostra poltrona in un'altra stanza? Le poltrone Amico Relax possono essere dotate anche di kit roller. È un pratico sistema di sollevamento della meccanica su un kit di ruote indipendenti, azionabile da una leva d'acciaio posta nella parte posteriore della poltrona, che vi permette di spostarla facilmente anche con una persona seduta sopra. Attenzione, non è finita! Volete un valido aiuto per contrastare dolori cervicali, dolori lombari, gambe gonfie? Siete costretti a stare seduti per molte ore al giorno? E allora scegliete una poltrona del benessere Amico Relax con il kit massaggio, un sistema che grazie a 5 piastre vibranti massaggia 5 zone del vostro corpo. Un massaggio che consente di stimolare la circolazione del sangue, che aiuta a prevenire dolori cervicali e lombari, che aiuta nel rigenerarsi dalla stanchezza, donandovi un senso di benessere totale. Volete di più? Amico Relax ve lo dà! Basta chiedere! Potete scegliere un vero e proprio massaggio shatsu professionale, un massaggio orientale fatto da una struttura all'interno della poltrona che scorre lungo la schiena e che potete azionare con un semplice telecomando e che prevede tre tipologie differenti di massaggio. stretching, kneading e tapping. Ma vedete quanti motivi in più per scegliere una poltrona Amico Relax? Beh, sono tantissimi e vi offrono la possibilità di migliorare la qualità della vostra vita. Una serie di amiche prodotte da Amico Relax che vi saranno sempre vicine, come per esempio Sorriso, una poltrona elegante e funzionale che vi aiuta con il suo meccanismo a non fare nessuna fatica quando vi dovete alzare o sedere, come tutte le poltrone Amico Relax fatte interamente in Italia. Oppure come Carezza, questa bellissima poltrona, che Amico Relax ha pensato per darvi il massimo comfort, a partire dal nuovo bracciolo studiato appositamente per far riposare le vostre braccia. Un supporto di soffice piumetta per accogliere completamente il vostro braccio per il massimo del relax. Ma Carezza non finisce di stupire. Oggi a richiesta è possibile avere il sistema Plus. La pediera, come vedete, che si allunga ancora di più, permettendovi di appoggiare completamente i vostri piedi fino al tallone. Tutto il vostro corpo sarà comodamente disteso su Carezza. Per chi invece ha difficoltà di diambulazione, Carezza dà la possibilità di levare i due braccioli per facilitare ad esempio il passaggio dal letto o da una sedia a rotelle direttamente sulla poltrona. E questa soluzione vi dà anche la possibilità di inserire un comodo tavolo regolabile in modo da avere a disposizione un pratico piano d'appoggio utilissimo per leggere, scrivere o per pranzare. Ma attenzione, Amico Relax vuole che tutti voi possiate avere in casa una meraviglia come questa poltrona. Sentite bene. La poltrona che scegliete può essere vostra con piccole rate mensili. Oppure Amico Relax raddoppia. Con l'acquisto di una poltrona riceverete una seconda poltrona manuale in omaggio. Oppure una rete elettrica motorizzata. Un aiuto per coloro che soffrono di riflusso gastrico, di gambe gonfie, vene varicose e che russano durante il sonno. Ma attenzione, se chiamate adesso e solo per oggi, con l'acquisto di una poltrona Amico Relax potete ricevere un divano in omaggio. Chiamate adesso perché Amico Relax pensa a tutto e a tutti. Ricordate amici, Amico Relax è l'azienda tutta italiana che da anni produce le proprie poltrone pensando proprio al vostro benessere. Non ci sono intermediari tra voi e la vostra nuova poltrona. Amico Relax progetta e produce le sue poltrone per cambiare meglio la vostra vita, per darvi sempre più benessere. E allora chiamate adesso e scoprite come vivere una grande emozione cambiando la vostra vita con una semplice telefonata. Benvenuti, oggi il nostro è un grande appuntamento perché voglio presentarvi le novità di Amico Relax, un'azienda tutta italiana che spende proprio tutte le sue energie per produrre delle poltrone eccellenti. Poltrone davvero speciali, un vero made in Italy. Ma come vi dicevo, quest'oggi è un grande appuntamento perché queste nuove poltrone sono un prodotto di straordinaria qualità e funzionalità. Sono realizzate con uno strato di ben 30 mm di Gaia, che è un prodotto della gamma Water Lily, tra i più innovativi che si trovano proprio sul mercato. Questa soluzione che cosa fa? Cognuga comfort e funzionalità, offrendovi una seduta che si automodella proprio attraverso l'attrazione termica di corpo. Quindi una maggiore capacità di accogliervi e di offrirvi il relax che chiedete ad una poltrona come questa. Più traspirabilità per allontanare l'umidità del corpo, quindi maggiore comfort in ogni stagione dell'anno. Telefonate al numero che vedete e prenotate la visita gratuita di un consulente esperto che senza nessun impegno di acquisto verrà a casa vostra, vi consiglierà e vi costruirà proprio una poltrona solida, certificata e garantita in base proprio alle vostre esigenze. Perché questo è il nostro impegno, farvi stare bene a casa vostra. Quindi non aspettate, chiamate adesso e telefonate subito al numero che vedete perché le poltroni Amico Relax sono vostre amiche anche nel prezzo. Le potete pagare anche con piccole rate mensili oppure con la formula 24 rate a tasso zero. E ricordate che una poltrona Amico Relax non è una poltrona qualsiasi, è un prodotto con la certificazione di dispositivo medico sanitario con IVA al 4% per gli aventi diritto, garantita 3 anni con assistenza in tutta Italia. Ma attenzione, Amico Relax vuole che tutti voi possiate avere in casa una meraviglia come questa poltrona. La poltrona che scegliete può essere vostra con piccole rate mensili oppure Amico Relax raddoppia. Con l'acquisto di una poltrona riceverete una seconda poltrona manuale in omaggio oppure una rete elettrica motorizzata. Un aiuto per coloro che soffrono di riflusso gastrico, di gambe gonfie, vele varicose e che russano durante il sonno. Ma attenzione, se chiamate adesso e solo per oggi, con l'acquisto di una poltrona Amico Relax potete ricevere un divano in omaggio. Chiamate adesso perché Amico Relax pensa a tutto e a tutti. Approfittate di queste promozioni e chiamate subito per richiedere la visita di un nostro incaricato. Ma pensate che una poltrona Amico Relax sia solamente quello che avete visto fino a questo momento? Avete difficoltà ad alzarvi, a risedervi dal vostro divano? Beh, la poltrona Amico Relax è dotata del sistema Lift Alza Persona, studiato nella massima sicurezza, che vi permette di alzarvi senza effettuare sforzi e di risedervi in completa autonomia. Volete portare la vostra poltrona in un'altra stanza? Le poltrone Amico Relax possono essere dotate anche di kit roller. È un pratico sistema di sollevamento della meccanica su un kit di ruote indipendenti, azionabile da una leva d'acciaio posta nella parte posteriore della poltrona che vi permette di spostarla facilmente anche con una persona seduta sopra. Attenzione, non è finita! Volete un valido aiuto per contrastare dolori cervicali, dolori lombari, gambe gonfie? Siete costretti a stare seduti per molte ore al giorno? E allora scegliete una poltrona del benessere Amico Relax con il kit massaggio, un sistema che grazie a cinque piaste vibranti massaggia cinque zone del vostro corpo. Un massaggio che consente di stimolare la circolazione del sangue, che aiuta a prevenire dolori cervicali e lombari, che aiuta nel rigenerare... Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento di oggi con InPrestito. InPrestito vi propone prestiti fino a 40.000 euro se siete pensionati e addirittura fino a 70.000 euro se siete dipendenti pubblici, statali o appartenenti all'arma. Se siete pensionati, IMS o IMSDAS, InPrestito può finanziarvi fino ad 85 anni. Passano pochi giorni, il tempo di istruire la pratica ed otterrete il denaro che avete richiesto. InPrestito, la cassa continua del prestito di fiducia. Cambia vita, in questo video troverai l'idea giusta per metterti in proprio. Entra nel mercato delle app con il franchising più semplice e innovativo. Ti assicuriamo un guadagno con un margine dell'85% su ogni vendita. Cavalca, l'onda delle app, è il momento giusto. Premiati come Franchising Innovativo Italiano 2016. Formati se l'esclusiva per la tua città è ancora disponibile. Sì, un'estate in vacanza con Dotolo Mobili. Perché d'estate ci sono un mare di offerte. Goditi le vacanze. Prima di acquistare, quest'estate passa da Dotolo Mobili. Prima arrivi, meglio scegli. Approfittane subito. Compri oggi e inizi a pagare a gennaio 2018 Interessi Zero. È un'esclusiva Dotolo Mobili. Dotolo Mobili vi aspetta nei suoi spazi stupendamente arredati di oltre 30.000 metri quadri di arredamenti a passo di Mirabella. Foggia, Bellizzi di Salerno, Benevento, Teverola Caserta. Aperti la domenica, promozione Interessi Zero valida in tutti i punti vendita. New Deezer Service, gli specialisti della sanificazione ambientale. Interventi di deratizzazione, disinfestazione e disinfezione di aree pubbliche e private. New Deezer Service. E anche pulizia di abitazioni, uffici, condomini, opifici industriali e commerciali, pulizia a grandi vetrate, lavaggio mochette e divani. New Deezer Service. È inoltre esclusivista degli innocui dissuasori per piccioni. Effettua trasporti e traslochi e fornisce assistenza amministrativa per HACCP. Affidati a New Deezer Service. Telefono allo 089 98 48 400. Cari amici, ben ritrovati all'appuntamento di oggi con InPrestito. Vi parlerò di tutte le grandissime opportunità che avete soltanto con noi di InPrestito. Conosciamo le vostre esigenze e oggi scoprirete che esistono prestiti e finanziamenti rinnovati per aiutarvi a risolvere i vostri problemi e a realizzare i vostri desideri. InPrestito vi propone prestiti fino a 40.000 euro se siete pensionati e addirittura fino a 70.000 euro se siete dipendenti pubblici, statali o appartenenti all'arma. Con noi di InPrestito il prestito è veloce e trasparente. Basta una semplice telefonata al numero verde che vedete in sovraimpressione 800 255 257 e potrete fissare un appuntamento con uno dei nostri consulenti che dopo pochissimi giorni verrà a casa vostra per aiutarvi ad ottenere il prestito migliore. Chi può ottenere un prestito? Tutti coloro che appartengono alla categoria dei pensionati, dipendenti pubblici, dipendenti statali e tutti coloro che appartengono all'arma. Ad esempio, se siete pensionati, Inps o Ipdaf in prestito può finanziarvi fino ad 85 anni. Sì, proprio così, fino ad 85 anni. Con una semplice telefonata al numero verde 800 255 257 potrete richiedere una consulenza gratuita e senza impegno direttamente a casa vostra. Ma perché un anziano dovrebbe richiedere un prestito? Noi di in prestito conosciamo bene le vostre difficoltà, il bisogno e la voglia di aiutare molto spesso i vostri figli, i vostri nipoti, nelle loro attività, nella loro vita quotidiana. O semplicemente perché vi meritate una bellissima vacanza dopo anni di lavoro. Qualunque sia la vostra motivazione, noi di in prestito possiamo finanziarvi fino a 40.000 euro. Se siete pensionati, Inps, Ipdaf, Ipost, Empax e Nasarco con una pensione minima di 600 euro ed avete bisogno di danaro, chiamando il numero 800 255 257 potrete accedere al prestito di cui avete bisogno. È facilissimo ottenere un prestito. Bastano pochi giorni, il tempo di istruire la pratica ed otterrete il danaro che avete richiesto. Basta poco. Il vostro documento di riconoscimento è la vostra tessera sanitaria. A tutto il resto, pensiamo noi, di in prestito. Non abbiate alcun timore anche se siete stati pignorati o protestati. Se in passato siete stati cattivi pagatori o se avete altri prestiti in corso. Per noi non c'è nessun problema. Possiamo farvi avere un prestito fino ad 85 anni. Inoltre, in prestito è coperta da un'assicurazione sulla vita. In qualunque evenienza, sarà l'assicurazione a pagare, senza gravare sul coniuge ed eredi. Se siete pensionati fino ad 85 anni, soltanto con noi di in prestito, potete avere un prestito in modo facile e veloce. Se invece siete lavoratori dipendenti e fate parte dell'arma dei carabinieri, polizia, esercito, vigili del fuoco, insegnanti, dipendenti pubblici, se insomma fate parte di queste due categorie, dipendenti pubblici e statali, ed avete bisogno di un prestito, chiamate subito il numero 800-255-257 per ottenere un prestito in totale trasparenza. Se avete già un prestito in corso, oltre la cessione potete richiedere un nuovo finanziamento, senza l'obbligo di estinzione del prestito precedente. Bastano pochi documenti, il vostro documento di riconoscimento, la vostra tessera sanitaria e naturalmente l'ultima busta paga per ottenere il prestito che avete richiesto. Se siete dipendenti pubblici o statali, in prestito vi finanzia fino a 70.000 euro. Eh sì, proprio così, fino a 70.000 euro. E per voi in prestito riserva, tassi agevolati. Basta una semplice telefonata al numero 800-255-257 per ottenere un appuntamento con uno dei nostri consulenti, ovunque vi troviate. Siamo sempre disponibili per una consulenza gratuita e senza impegno. Che cosa state aspettando? Chiamate subito il numero 800-255-257 per ottenere un prestito anche se siete protestati o cattivi pagatori. Se avete un sogno da realizzare o un problema da risolvere e l'unica cosa che vi manca è il danaro, non abbiate nessuna preoccupazione. Perché per voi? Ci siamo sempre noi di in prestito. Chiamate subito il numero 800-255-257. I nostri consulenti sono a vostra disposizione per consigliarvi il prestito migliore. Se avete bisogno di un prestito, chiamate subito il numero 800-255-257. Siamo pronti a bussare alla vostra porta per aiutarvi a realizzare i vostri desideri. In prestito, la cassa continua del prestito di fiducia. In collaborazione con Eureka! Ho trovato la mia oasi di relax in città, tra spiaggia e piscina. Eureka! A Salerno in via generale Clark 54, con ampio parcheggio. Info 089 33 49 23. Trascorri con noi le tue giornate d'estate. Nel pomeriggio sulle coste, bel tempo, con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani al mattino sulle coste, parzialmente nuvoloso, con schierite prevalenti. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli qua. Previsioni del tempo fornite da 3B Meteo In collaborazione con I got this feeling on the summer day when you were gone I crashed my car into the bridge and watched I let it burn I threw your shit into a bag and pushed it down the stairs I crashed my car into the bridge I don't care I love it I don't care I got this feeling on the summer day when you were gone I crashed my car into the bridge and watched I let it burn I threw your shit into a bag Amici sportivi buon pomeriggio dal centro sportivo di Roccaporena già in campo Salernitana e Cascia la seconda sgambata ufficiale per la formazione di Alberto Bollini dopo lo 0-0 a ranghi misti di mercoledì scorso il primo match contro un autentico sparring partner la formazione dei direttanti del Cascia che è schierata alla sinistra dei vostri teleschermi in questo momento il fischio d'inizio agli ordini del signor Luccioli di Foligno la formazione dei padroni di casa del Cascia con un 4-3-3 agli ordini di Di Pasquale proietti tra i pali Ciccolini Tiburzi Eresia e di Crescenzo Cucci, Lombardi e Porcedda in mediana con Goxi, Medici e Argenti a comporre il tridente offensivo la Salernitana di Alberto Bollini scende in campo tra l'altro con le nuove divise tecniche con Coyo Caro tra i pali Pucino, Tuia, Bernardini e Vitale a comporre il pacchetto difensivo in mediana Minala, Della Rocca e Auger tridente offensivo composto da Alex, Roberto e Sprocati una buona presenza di pubblico una ventina di tifosi provenienti da Salerno della Salernitana e anche qualche supporter del Bari piccola curiosità intanto Salernitana che prova a farsi viva dalle parti di Proietti e guadagna il primo tiro dalla bandierina diciamo, piccola curiosità da alcuni tifosi del Bari che hanno salutato la loro ex bandiera Alessandro Rosina che per il momento parte dalle retrovie partirà nel secondo tempo probabilmente Rosina a dispetto della gara con... della gara la prima amichevole con... attenzione Minala è di Minala il primo gol dopo appena due minuti di gioco Joseph Minala su angolo di Mattias Sprocati sblocca il risultato 1 a 0 in favore della Salernitana di Alberto Bolini è anche il primo gol della formazione Granata in una partita per quanto amichevole per quanto uno sparring partner era finito un po' nel milino l'attacco della Salernitana che era rimasto a bocca asciutta sebbene praticamente contro elementi di pari livello nell'amichevole di mercoledì scorso tra Salernitana A e Salernitana B 1 a 0 in favore della Salernitana Rhea decide realizzato Joseph Minala Minala giunto in prestito anche quest'anno dalla Lazio non è stato ancora formalizzato il suo trasferimento vediamo Alex che ha guadagnato un buon pallone sulla tre quarti prova a districarsi il tiro a giro di Sprocati bravo Proietti nella circostanza metterci una mano ancora Salernitana però con Alex che si guadagna un tiro dalla bandierina siamo al secondo calcio d'angolo per la Salernitana intanto singolare caduta da parte di uno degli assistenti del signor Luccioli di Foligno si tratta di Falcinelli che evidentemente ha preso una buca seguiamo questo tiro dalla bandierina il destro di Alex a girare ci mette la testa di Crescenzo si rifugia in angolo dalla parte opposta andrà quasi certamente Sprocati il destro di Mattia Sprocati anzi sarà Gigi Vitale in questo caso con il Mancino a provare a pennellare una traiettoria per la testa delle Torri Granata Bollini si è soffermato molto sui tiri Franchi Alex dalla tre quarti tenta la conclusione direttamente prova ad andare via il numero undici Argenti ancora Sprocati il suo sinistro bravo Proietti in due tempi prova a rimediare la retroguardia della cascia la formazione di Di Pasquale che tra l'altro ha affrontato giovedì scorso l'Avellino di Walter Novellino nel campo della vicina cascia perdendo dodici a zero una sorta di partita nella partita per certi aspetti senza voler guardare naturalmente al risultato Pucino prova ad andare via fa buona guardia a Lombardi un po' il metronomo del centrocampo dei Biancazzurri di Di Pasquale formazione della cascia neopromossa in promozione attraverso la lotteria dei playoff è arrivata seconda in campionato Minala in sospensione palla oltre il perimetro con le mani ancora Lombardo il pressing di Alex guadagna palla della Rocca non ci arriva la sbarazza Cucci nella mezzala destra del centrocampo Umbro la sventagliata di Alex Tuya bello il controllo di Sprocati leggermente troppo lungo ci arriva Tiburzi prova a sventare la minaccia la difesa Umbra Tuya inevitabilmente il pallino del gioco in mano alla Sarenitana sarà partita vera se non altro in termini di tempo 45 minuti rispetto ai due tempi da 30 minuti di mercoledì scorso Medici aveva chiesto il dai e vai con Lombardi non c'è stata con Cucci della Rocca si fa vedere Minala si propone Pucino arriva leggermente arretrato il servizio per Pucino si riparte da Alessandro Tuya Alex Bernardini poi Vitale siamo sulla corsia di sinistra nella zona mediana del campo della Rocca Playmaker il suo sinistro a cercare Roberto la mette bene giù tenta il dribbling il tiro con la punta della piede proietti ancora però Sarenitana ha sprocato il traversone l'anticipo di Ciccolini e palla che finisce sul fondo sarà rimessa dal fondo in favore della formazione di Pasquale 1-0 in favore della Salernitana dopo appena due minuti di gioco di testa Joseph Minala ha sbloccato il risultato ha tentato una sventagliata il difensore centrale Eresia finito direttamente oltre il rettangolo verde della Rocca poi Auger Vitale che prova a farsi vedere della Rocca ha schierato praticamente il centrocampo della passata stagione Bollini tenendo momentaneamente fuori dai giochi il playmaker Ricci che dovrebbe essere schierato nel corso della ripresa Vitale si fa vedere si propone Bernardini Minala Roberto l'appoggio ha cercato un triangolo lungo la Salernitana non c'è stata intesa con Puccino Bollini dice vai da solo quando vedi che la distanza è siderale Cucci ancora Cucci il pressing di Auger disradica il pallone secondo il direttore di gara Luccioli di Foligno il ganese ha commesso fallo calcio di punizione in favore del Cascia con il destro Tiburzi si fa vedere Cucci chiede tiburzi Medici ha tentato una buona trama di gioco il Cascia ha fatto altrettanto buona guardia Sandro Bernardini Coyo Caru Bernardini si propone Minala non impeccabile nel scarico su Tuya della Rocca Auger troppo in anticipo Vitale non c'è intesa naturalmente queste sono gare che servono anche soprattutto per affinare le intese tra i reparti sulle catene soprattutto nelle idee di gioco di Alberto Bolini che vuole sempre profondità così come in questo caso bravo Roberto mette giù Proietti e di destro dopo averlo driblato in fila per il 2-0 al nono minuto di gioco 2-0 in favore della Serenitana Roberto l'attaccante Lusitano ha raddoppiato dopo il gol del vantaggio siglato da Minala bella l'apertura del pacchetto arretrato per Roberto naturalmente anche in questo caso tutto da prendere col beneficio dell'inventario sono i movimenti i meccanismi le idee le intensità del gioco non certamente il bottino e tantomeno le giocate in relazione naturalmente al valore dell'avversario di turno avversario direttantistico che tra l'altro ci giunge voce orfano di tutto il tridente offensivo praticamente di Pasquale sta giocando con il pacchetto offensivo di scorta rispetto a quello che ha vinto il campionato un campionato comunque direttanti che ha permesso alla Cascia di approdare in promozione calcio di punizione in favore del Cascia già battuto Tiburzi Prova a farsi vedere Lombardo ancora Tiburzi Eresia arretra molto il numero 9 Lombardo troppo sufficiente il ruba subito il pallone della Salernitana sprocati il taglio dentro subisce fallo ad opera di Tiburzi calcio di punizione dalla trequarti la zona centrale del campo negli ultimi giorni gli specialisti dei calci di punizione sono divertiti un po' a scaldare i quantoni e i vari coiocaro ad Amonis ad Amonis tra l'altro giunto in ritiro già da qualche giorno oggi è stato perfezionato e formalizzato ufficialmente il suo passaggio alla Salernitana via Lazio dovrebbe seguirlo a breve l'ufficializzazione naturalmente di Minala e probabilmente da domani possibile anche seguiamo la punizione di Vitale a giro il tiro e la rete piazzata male la barriera da parte di Proietti 3 a 0 in favore della Salernitana Gigi Vitale quando siamo appena al undicesimo del primo tempo Gigi Vitale ha portato a tre le reti della Salernitana Gigi Vitale Cascia che prova a limitare i danni la pressione di Ogier ha intuito tutto il Ghanese però poi chiuso in mezzo a tre Tiburzi anzi no Lombardo Eresia Minala prova a dar fastidio Cucci si rifugia dalle parti di Ciccolini la spedisce in terra di nessuno direttamente palla che finisce oltre il perimetro Bernardini in surplus va a prendere il pallone si permette anche di battere la rimessa laterale ricordiamo Salernitana scossa come un po' tutta la Valnerina dalla scossa di terremoto che ha svegliato praticamente tutta l'Umbria e non solo alle quattro del mattino a tal punto che Bollini ha spostato la seduta di lavoro mattutina di circa un'ora molti giocatori della Sarenitana sono svegliati sono usciti dalle loro stanze e poi hanno fatto fatica a riprendere sonno è ancora troppo fresco il ricordo del terremoto che ha devastato le zone del centro Italia appena undici mesi or sono torniamo al calcio torniamo al campo al centro sportivo di Roccaporena siamo all'ottavo giorno di lavoro qui in Valnerina per la Salernitana di Alberto Bollini che domani è chiamata un impegno sicuramente più probante contro la San Benedettese di Checco Moriero sarà la terza amichevole di questo ritiro estivo Salernitana in Umbria Roccaporena fino al 30 di luglio poi si torna a casa in attesa del avversario da affrontare in Coppa sprocati la rovesciata di Alex ci mette i guantoni prodezza balistica del Lusitano stato bravo nella circostanza Proietti Pucino si fa vedere Alex molto dinamico l'esterno offensivo portoghese Tuya della Rocca Auger Vitale prova a eludere la sorveglianza di Goxi si riparte da Tuya si fa già molto per linee orizzontali in questo momento Tuya prova a spezzare l'inerzia con una verticalizzazione per Alex rimasto a terra Ciccolini nella circostanza palla che comunque era finita oltre il perimetro gioco fermo in questo momento si attende che il numero due della formazione di Di Pasquale possa rialzarsi l'arbitro dice che si può proseguire il gioco riprende mentre Ciccolini ancora a terra la pressione di Roberto il muro di Sprocati serie di batti ribatti di testa poi ancora Sprocati sulla corsia di sinistra torna sui suoi passi Goxi rimessa laterale in favore della Saranitana 3 a 0 il parziale per i Granata Minala Roberto e Vitale direttamente con il sinistro su calcio di punizione rimessa laterale con le mani della Rocca si fa vedere prova da intanto Ciccolini ancora fermo a terra la missile terraria di Puccino ancora con i guantoni proietti le finte di Puccino manda a spasso Argenti della Rocca Auger di prima Bernardini due tocchi ancora Auger si gira su se stesso trova Vitale sulla stessa catena prova a farsi vedere Roberto ancora Auger c'è un buon movimento senza palla da parte della Saranitana ci deve mettere i pugni i proietti sprocati Alex chiuso nella morsa tra due poi Minala e si accascia sul pallone il portiere del cash proietti evitando che il camerunense potesse raddoppiare il suo bottino di reti e portare a quattro quello della Saranitana ancora Granata Augerra il destro a giro la palla che scheggia è il palo e finisce direttamente in fallo laterale rimessa con le mani che si appresta a battere Tiburzi lo ho il ministro a cambiare gioco dove però ceppucino Grazie. 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 Grazie.